ciao a tutti benvenuti o bentornati qui sul mio canale youtube per chi non mi conoscesse io sono valentina in arte valli makeup lover e qui sul mio canale parliamo di beauty makeup e skin care a 360 gradi nel video di oggi andremo a parlare di tre categorie di prodotti e sono spray fissanti per il viso primer viso e primer occhi ultimamente ho testato alcuni nuovi prodotti e alcuni invece fanno già parte della mia makeup collection da qualche tempo e quindi vedremo quali sono i prodotti che mi stanno aiutando tanto in questo periodo prima di iniziare vi ricordo che mi trovate come valli makeup lover anche su instagram e tiktok e se volete continuare a vedere video sul mio canale mi raccomando iscrivetevi e lasciate un like di supporto e se volete anche un commentino ma come sempre ho parlato abbastanza iniziamo subito con il video direi di partire per ordine e inizieremo dai primer viso questi primer sono primer adatti ovviamente al mio tipo di pelle che è una pelle secca e in questo periodo ho provato alcuni nuovi primer che mi hanno stupita in positivo e vorrei parlarvene ma iniziamo subito con il primo primer che vi mostro che fa parte della mia makeup collection da qualche tempo e sto parlando dell'hydrating skin refreshing primer di essence ed è questo qui è un prodotto studiato per andare ad idratare la pelle 24 ore da quello che ci dice abbiamo acqua di cocco e acido ialuronico ed è un primer che mi piace veramente tantissimo inizialmente non l'avevo apprezzato appieno però durante gli utilizzi mi sono resa conto che a parte l'idratazione che dà la mia pelle riesce anche a far stendere molto più facilmente il fondotinta questa qui è la texture del prodotto ovviamente è bianco ma una volta sfumato sul viso sarà trasparente e come vedete da questo aspetto leggermente luminoso ed effettivamente la pelle è bella idratata e al tatto come ve lo posso descrivere è quasi geloso chiamiamolo così ed effettivamente si assorbe facilmente non vi lascio alcun tipo di patina e poi i prodotti al di sopra performano veramente bene quindi se state cercando un primer low cost che vada ad avere tutte queste caratteristiche ve lo consiglio prossimo primer che è entrato a far parte della mia makeup collection da pochissimo tempo ma che sto praticamente finendo in tre secondi e il nuovo è lo good stuff glow serum primer di essence ed è questo qui è uno della nuova collezione anche questo è un primer idratante è un primer levigante chiamiamolo così per quanto riguarda gli ingredienti abbiamo miacinamide quindi questo fa sì che vada a levigare la pelle e anche anguria questo per l'idratazione e la textura è molto particolare è questa qui questa si presenta effettivamente più gelosa quando andate a stenderlo anche questo lascia questo aspetto luminoso idratato però secondo me l'idratazione è molto più leggera rispetto all'altro sempre di essence e ha un'azione secondo me anche molto rinfrescante è il primer che ho utilizzato per fare questa base e mi ci sto trovando da dio perché effettivamente è come non so se notate mi avvicino è come se vada a levigare per bene i pori va effettivamente a fondersi perfettamente con la pelle e si assorbe facilmente poi il fondotinta come vedete va a performare in modo perfetto oltretutto lo sento fresco sulla pelle non mi da nessun tipo di problema per quanto riguarda magari segni durante la giornata anzi il prodotto poi va a durare tanto e ve lo straconsiglio se state cercando un prodotto idratante ma leggero sulla pelle che vi faccia durare effettivamente di più il make up se non erro di questa linea esistono varie categorie di prodotto anche per pelle grassa ovviamente io non l'ho provato perché potrebbe andare a darmi qualche problemino quindi magari dovreste provarlo voi amici dalla pelle grassa però sono sincera per il costo che ha sicuramente lo ricomprerò e se avete la possibilità prendetelo anche voi perché fate un affare prossimo prodotto è invece di catrice ed è un primer che è entrato da poco a far parte della mia make up collection e sto parlando del vitamin c fresh glow primer ed è questo della nuova collezione questo è un primer differente rispetto agli altri che vi ho fatto vedere perché va a donare semplicemente un effetto luminoso alla pelle se andate a vedere la texture è rosata e va ad uniformare benissimo l'incarnato ed è questa qui e una volta steso questo è l'effetto anche questo si assorbe molto facilmente ed effettivamente lascia quell'aspetto bello luminoso alla pelle avendo anche la vitamina c comunque vi dà quell'aspetto radioso e anche questo mi permette di utilizzare tranquillamente tutti i miei fondotinta preferiti senza andare a darmi problemi anche questo ha un'ottima durata sotto il makeup quindi mi fa durare molto bene i prodotti al di sopra e anche questo essendo un prodotto low cost ve lo straconsiglio il prossimo è un prodotto che si riconferma uno dei miei preferiti ma ha un costo abbastanza elevato e sto parlando del glow priming mosturize di elemis ed è questo qui è un prodotto che sto terminando e ho amato alla follia perché è un primer uniformante che va effettivamente ad illuminare la pelle perché ha delle micro perle scienze all'interno questa è la texture potete utilizzarlo sia come crema che come primer per la base viso e una volta steso questo è l'effetto è molto differente rispetto agli altri perché nell'effettivo come vedete le micro perle scienze danno dei riflessi abbastanza doratini ovviamente un effetto ottico che poi una volta steso bene sul viso non è che percepite come texture pesante sul viso ma vi dà un aspetto molto bello alla base perché in primis illumina e in secondo luogo comunque è un prodotto che va ad idratare a fondo essendo comunque una crema e vi dico la verità mi ci sono trovata benissimo a un costo elevato me ne rendo conto però effettivamente vale tutti i soldi che costa ve lo garantisco e quindi se siete alla ricerca di un primer di questo tipo ve lo straconsiglio passiamo ora ai primer occhi e ne ho da consigliarvi solamente due uno ormai l'avete visto centomila volte nei miei video e si riconferma uno dei miei primer preferiti e devo andare anche a ricomprarlo perché l'ho praticamente finito e sto parlando dell'i love color intensifying di essence è un primer occhi che a me piace tantissimo perché va a neutralizzare il colore della palpebra si stende in modo facile anche con le dita per chi non è amante dei pennelli questa è la texture e poi sopra gli ombretti vanno a performare bene lo indosso in questo momento il makeup solitamente mi dura tantissimo se ho degli ombretti molto burrosi vado a settarlo comunque con un po di cipria perché io avendo la palpebra oleosa potrei rischiare di vedere l'ombretto che corre da tutte le parti però effettivamente per essere un primer low cost mi ha stupita tantissimo perché ripeto gli ombretti performano meglio durano meglio sulla palpebra si stende facilmente anche adatto a palpebre oleose come la mia quindi se siete alla ricerca di un primer occhi economico e siete anche alle prime armi e volete sperimentare questo ve lo straconsiglio altro primer che mi ha strastupita in uno degli ultimi video è l'eyeshadow primer di wet and wild ed è questo qui sono rimasta abbastanza soddisfatta da questo primer e secondo me ha una particolarità questa è la texture voi andate a metterlo sulla palpebra come vedete inizialmente sembra un primer iper luminoso super grasso sembrerebbe però nell'effettivo mi sono resa conto durante gli utilizzi che si autofissa e vi spiego anche perché nel primo video dove l'abbiamo provato insieme sono andata a settarlo con la powder perché mi sembrava effettivamente oleoso e poi gli ombretti hanno performato benissimo la seconda volta che l'ho utilizzato mi sono resa conto che andando a settarlo con troppa powder andava a notarsi sulla palpebra e da lì ho capito che è un primer che si autofissa ora vi faccio vedere come vedete l'effetto luminoso sta andando via ed effettivamente sento che si sta aggrappando alla mano quindi è un primer adatto anche a palpebre oleose come la mia perché poi il makeup mi ha durato tutto il giorno si stende facilmente vi consiglio di non andare a settarlo ma aspettare qualche minutino che si autosetti da solo e poi è una bomba tenete presente che a volte mi capita con ombretti burrosi come per esempio questi di huda beauty che purtroppo gli shimmer sono meravigliosi ma sono molto molto burrosi che nelle pieghette vada a togliersi se non fisso il prodotto invece con questo primer ho notato che non succede dovete essere comunque un pochino come posso dire veloci nello sfumare gli ombretti perché fissandosi va magari a darvi leggermente attrito sull'occhio però per me è una cosa che non mi fastidisce e anche questo per il costo che ve lo straconsiglio e lo trovate anche su amazon ora parliamo degli ultimi prodotti e sono gli spray fissanti io ho proprio una malattia per gli spray fissanti soprattutto per quelli che vanno a illuminare il viso e ovviamente a settare bene il makeup soprattutto perché in periodi estivi come questi dove da noi ci sono veramente ragazzi 50 gradi all'ombra c'è un caldo pazzesco ho bisogno comunque che quando vado a fare il look full face pur utilizzando prodotti leggeri che il mio makeup duri tantissimo e ho tre prodotti da consigliarvi di cui uno si riconferma uno dei miei preferiti e direi di partire da lui ho finito mi sta piangendo il cuore e sto parlando del bronze away to fiji di catrice questo prodotto l'ho stra stra utilizzato in primis ha una buonissima fragranza che vi trasporta proprio ai tropici è molto delicata va comunque a darvi un piacere quando andate a vaporizzarlo sul viso perché effettivamente la profumazione non è fortissima ma piacevole ha un getto abbastanza ve lo faccio vedere se riesco questo è il getto spero che si veda è abbastanza diciamo corposo però non dà assolutamente fastidio alla pelle quindi non è che vi ammazza quando andate a spruzzarlo va a settare benissimo il makeup è una cosa che mi piace tantissimo di questo prodotto come anche degli altri due è che effettivamente va a togliere completamente la polverosità dal viso è proprio come se facesse una piccola magia vi spiego vado a fare la mia base sapete che io non faccio basi pesanti però effettivamente mi diverto tanto a caricare un po con le polveri una volta fatto il tutto vado a spruzzare lo spray fissante ed è come se la pelle risultasse piallata va a togliere la polvere poi come vedete tutti i prodotti al di sopra vanno a fondersi benissimo e ripeto il makeup mi dura tantissimo è uno dei miei preferiti non so se su douglas ci sia ancora tant'è che lo riprenderò perché effettivamente mi sono trovata benissimo e quindi è un prodotto che vi straconsiglio altro prodotto che inizialmente mi ha lasciato un po perplessa per la sua consistenza nella confezione e sto parlando dello spray fissante della collezione sunday picnic di she glam come vedete ve lo mostro la texture è praticamente gelatinosa è stranissimo questo prodotto e prima di utilizzarlo sono rimasta un po titubante perché detto questa texture vaporizzata sicuramente mi farà uno schifo in viso e invece no innanzitutto vi deve piacere il tipo di spray fissante perché è uno spray fissante che dà un effetto glowy alla pelle ed è quello che indosso in questo momento che se vedete sembra che non ho nulla in viso ma nell'effettivo ho una bella base una full face bella presente e quello che mi piace è l'aspetto sano levigato e senza polvere quindi senza aspetto polveroso che mi lascia alla pelle nonostante sia uno spray fissante glowy vi garantisco che il makeup dura tutto il giorno perché l'ho messo alla prova anche sotto il sole quindi è perfetto non so se riuscite a vedere effettivamente sembra molto sottile però un po l'effetto wet sul viso lo sentite però una volta che si asciuga non c'è nessun tipo di problema come vedete poi la base è perfetta e anche questo mi ha stupita tanto quanto questo di catrice ed effettivamente ormai è il suo sostituto vi garantisco che è un buonissimo prodotto non mi ha dato nessun tipo di problema al viso e per il costo che avevo straconsiglio se vi piace ovviamente l'effetto glowy ultimo prodotto è un prodotto invece che secondo me si adatta tantissimo alle pelli miste e grasse soprattutto a chi suda tantissimo in viso ed è sempre uno spray fissante low cost e sto parlando del you better work di essence ed è questo qui di questo primer l'unica cosa che non mi piace è la profumazione ma ovviamente è un qualcosa di soggettivo perché io non adoro i profumi al mentolo ed è questo ha effettivamente una profumazione al mentolo abbastanza presente è uno spray fissante che non va a farvi lucidare e soprattutto è anti sudore quindi ve lo consiglio anche in questo periodo molto molto caldo va a fissare perfettamente il makeup non ha un effetto glowy ma un effetto matte e anche questo va a togliervi tutta la polverosità dal viso ora se non mi intossico vi faccio vedere come è il getto questo è il getto effettivamente ha una profumazione molto molto mentolata a me non piacciono queste profumazioni però sono sincera non sono tipa che per una profumazione non usa il prodotto l'ho utilizzato anche da pochissimo per effettivamente tenere su un makeup con questo caldo e ha retto perfettamente ed è questo uno spray fissante che viene indicato anche per chi va in palestra e adora truccarsi anche quando va a fare allenamento quindi capite bene che è un prodotto abbastanza resistente quindi se avete la possibilità questo se non erro è comunque un prodotto della collezione standard andate a prenderlo perché è una bomba bene anche questo video volge al termine fatemi sapere nei commenti se avete già provato questi prodotti se qualcuno fa parte della vostra makeup collection e come vi siete trovati ovviamente lo sapete sono molto curiosa e ovviamente se qualcuno non vi è piaciuto come sempre vi ricordo che se volete supportarmi il modo migliore per farlo è lasciare un bel like iscrivervi al canale mi raccomando attivate la campanella per essere sempre informati sull'uscita dei nuovi video anche per oggi è tutto io come sempre vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo al prossimo video ciao raga